ok ragazzi ora dovremmo essere in live non come prima e andiamo a fare qualche partita a questo giochetto abbassa un po' il volume che mi dà fastidio ok prima l'abbiamo perso manco abbiamo utilizzato la musa speciale anzi ne abbiamo perso tre ne abbiamo vinta una recuperando tutto questo gioco mi è stato suggerito da un amico che ho conosciuto su brewstars lo saluto e mi arriva il messaggio non so perchè stavo fermo non ho capito dicevo e volevo installarlo sul computer ma non me lo facevo installare allora l'ho trovato qua e se non sbaglio è questo gioco a me non mi sbaglio nel senso lo faccio installare però era uno proprio sbagliato non era quello ho sette granate ora ne ho otto come numero di rapone oh mio dio ragazzi ecco è arrivata la pubblicità scusate dai pubblicità levati non riscatto io non riscatto io ho problemi con la pubblicità io dopo vediamo se possiamo modificare un po' il personaggio e se mi aiutate oh mio dio adesso sto stupido cos'ho non ho capito niente sapete una cosa cambio carta proprio vediamo lei non lo so tiro a caso perchè l'ho installato da pochissimo e quindi non so manco che carta utilizzare ma li ho appena trovate peccato che lev non stava bene quando l'ho trovato ragazzi ragazzi ma se io per esempio provo oh mio dio mi sono spaventato malamente ah ma quindi quei cosi mi rimbecilliscono il personaggio no raga non ho capito niente scusate se l'ho persa ma non ho capito niente ma cosa diamine è successo buh no uffa che palla sta lo scappato non mi mandate messaggi ma non si è dimenticato di abbassare il volume del gioco scusate oh mio dio però sono sec... nooo pensavo di essere secondo peccato non è stato mancato la mouse no aspetta vuoi rimettere la musica un po' più ok meglio è però siccome non ce l'ho sul telefono senza il copyright non posso oh bellissimo maierino ti sei suicidato veramente ok ma stai già a un bel livello come hai fatto a suicidarti io lo capisco da uno che ha appena iniziato oppure io mi suicidavo ehm cosa vuol dire? oddio raga mi sono spaventato ma che ti suicido? no no non ho capito che appena... pareggio? ma perchè mi arrivano i messaggi porca di quella? e vabbè raga non voglio vedere la pubblicità raga un attimo non 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 Grazie.